Contrariamente a ciò che si pensa, la pop art non nasce in America all'inizio degli anni 60, ma in Inghilterra alla metà dei 50. Il primo a usare questa espressione pop in un testo critico fu Lawrence Holloway, uno storico dell'arte britannica che nel 1955-56 cominciò a parlare di un'arte pop che doveva essere sostanzialmente l'abbreviazione di popular. Ma è chiaro che nella nostra lingua quando noi intendiamo popular pensiamo ad un fenomeno così, con le radici, nella cultura locale, in contrapposizione magari addirittura ad uno sguardo più internazionale. Non è così. Lawrence Holloway parlando di pop parlava di un'arte che di lì a poco avrebbe conquistato il mondo. L'anno è molto importante, è quel famoso 1956 che in qualche modo noi abbiamo pensato potesse essere davvero l'inizio dell'arte contemporanea. Nel 1956, l'anno peraltro della morte di Pollock, registriamo una mostra molto importante alla White Chapel di Londra, uno spazio che ancora esiste nella capitale inglese, dove un gruppo di artisti che si radunavano intorno ad un'istituzione culturale nota come ICA decisero di curarsi da soli, proponendo al pubblico londinese la mostra dal titolo This is Tomorrow. Questo è il domani, o se preferite il futuro. E, poiché sono passati appena dieci anni dalla fine della seconda guerra mondiale, che questi artisti hanno cominciato tutti quanti a lavorare nel secondo dopoguerra, è evidente che l'idea del futuro riguarda soprattutto un mondo nuovo. E da che cosa è dominato questo mondo nuovo? Beh, dai mass media, dalle macchine, dal cinema, dalla nascente televisione, da tutta una serie di strumenti che in qualche modo indicheranno la vita moderna, per un linguaggio che è veramente un linguaggio di caratura internazionale. Il pop, o la pop se preferite, è il primo movimento che parla una lingua internazionale, che ovviamente è l'inglese, ma non solo, non solo. In questa mostra, This is Tomorrow, a cui parteciparono tutti quanti gli artisti inglesi all'epoca trentenni della nuova generazione, che fu davvero un po' la new thing, la cosa da vedere in quella famosa annata 1956, si distinse in particolare il lavoro di Richard Hamilton, che fu un po', come si dice in latino, la pars prototo, quel lavoro che serve per indicare davvero tutta quanta la poetica dello show, della mostra. Hamilton preparò un piccolo collage, veramente non troppo più grande di un foglio di carta, dal titolo Just what is it makes today's home so different so appealing? Perché le case di oggi sono così differenti e hanno così tanto appeal? E' un collage costituito dall'insieme di tutta una serie di immagini, una piccola opera su cui si potrebbe stare un anno intero, volendo, che dicono, per esempio, che all'interno di queste nuove case, la signora addetta alle pulizie, probabilmente addirittura la stessa padrona di casa, è ben vestita e usa un elettrodomestico all'avanguardia. C'è una televisione, ci sono i giornali, c'è un magnetofono, un registratore a bobine, che serve quindi a registrare il suono, c'è uno stemma di un'automobile, c'è la luna in alto, sopra di noi, la luna a cui arriveremo, beh, parecchio più tardi ancora, e c'è un tipo, una specie di culturista, con un costume alla Tarzan, ecco, che tiene in mano una specie di chupa chup, se avete presente, quei lecca lecca, in cui compare la scritta pop. In questo piccolo, davvero, cartoncino, questo piccolo disfoglio, si sommano tutta una serie di elementi che saranno la chiave per andare a definire una nuova arte, completamente inedita. E tra l'altro lo stesso Richard Hamilton fu colui il quale diede delle definizioni particolari di che cosa dovesse essere la pop art, e ricordo, siamo in Europa e negli anni 50. La pop art doveva essere popular, quindi, evidentemente, colpire nel segno di una cultura popolare, di una cultura nuova, non accademica. Transient doveva essere transitoria, veloce, expendable, spendibile. Low cost, prodotta, quindi con poco denaro, mass produced, prodotta per le masse, pensate per le masse, e attenzione a questo termine. Young doveva parlare a un pubblico giovane, ma non solo, doveva essere anche sexy, la parola sì, il significato lo possiamo capire immediatamente. Ovviamente glamorous, cioè che avesse a che fare con il mondo delle tendenze e della moda, e potesse costituire un big business, cioè farci dei grandi affari. Mi pare che su quest'ultima definizione Andy Warhol ci vide molto molto bene. Ma non anticipiamo i tempi, rimaniamo a Londra, rimaniamo a Londra perché tra la fine degli anni 50, l'inizio degli anni 60, è veramente la Cool Britannia, è veramente il posto forse più di tendenza dell'Europa, dove tra l'altro nel giro di pochissimi anni nascono dei fenomeni mass mediatici fondamentali, uno di questi evidentemente è Mary Quant, una giovane stilista che inventa la minigonna, il che significa che togliendo centimetri di stoffa e liberando le gambe delle donne va in una direzione appunto di una sessualità molto più emancipata, ma soprattutto i grandi fenomeni della Londra di quegli anni sono legati al mondo della musica, in particolare ai Beatles, che londinesi non sono, arrivano da Liverpool, a differenza dei Rolling Stones, che arrivano un po' più tardi e saranno invece londinesi, ma che rappresentano davvero una specie di spaccatura a metà della storia del Novecento per ciò che riguarda la musica. Beatles, che sono peraltro molto molto importanti anche nella considerazione proprio della pop art inglese, dove ci sono artisti assolutamente famosi, alcuni come David Hockney ancora in piena attività, anzi probabilmente lui è considerato in questo momento il più grande pittore vivente a livello sia di valore economico che di fama, oppure Peter Blake, un Sir Peter Blake, che nel 1967 viene raggiunto da una telefonata di Paul McCartney e di John Lennon, che insieme a George e a Ringo costituivano i Fab Four, cioè i quattro favolosi Beatles, che gli chiedono di studiare l'artwork per quella che sarà a tutti gli effetti la copertina più famosa nella storia del rock, Sgt. Pepper. Sgt. Pepper è l'album che a tutti gli effetti dà una dimensione autoriale alla carriera dei Beatles, che non hanno più quel look insomma da baronetti all'inizio anni 60, ma sono più vicini ormai al mondo hippie, guardano verso l'India e in questo pantheon di celebrities che compone appunto la copertina dell'album troviamo una serie di riferimenti alla cultura contemporanea, anche alle matrici che i Beatles guardano, da Bob Dylan a My West, dai fratelli Marx a lui, Carlo Marx, da Marilyn Monroe a John Kennedy, da Oscar Wilde a Buster Keaton, tanto per citarmi alcuni, e quella copertina che solo a guardarla diceva, ah sì, l'ho già vista qualche volta, perché davvero è passata nell'immaginario collettivo di una generazione, fa sì che il mondo dell'arte e il mondo della musica in qualche misura si incontrino e sintetizzino da una parte il desiderio di popolarità dell'arte e dall'altra parte il desiderio di essere più acculturati come è stato per la musica pop, ma sono due linguaggi giovani, nuovi, che parlano la stessa, hanno gli stessi codici, sono sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda. Peraltro il rapporto dei Beatles con l'arte contemporanea continua anche nel 1968, verso la fine della loro carriera, quando sostanzialmente il White Album, cioè l'album bianco, quello che non ha titolo, non ha nulla se non un numero di serie, la scritta The Beatles sopra, viene affidato questa volta alla realizzazione di Richard Hamilton, di nuovo lui, Richard Hamilton, che dopo la sinfonia visiva e stracolorata di Peter Blake decide per un album che di fatto è sostanzialmente quasi arte concettuale. Ma Hamilton è davvero l'interprete della Londra di quegli anni, c'è un suo lavoro sempre nello stesso anno, 1967, che davvero potrebbe andare in qualche misura di pari passo rispetto al famoso 1956, poco più di un decennio in mezzo, è successo davvero di tutto. Bene, in quel 1967 Hamilton preleva un'immagine da un giornale tabloid che testimoniava l'arresto di due uomini, due persone chiuse dentro l'auto della polizia, uno con le manette e l'altro che si copre il volto per non farsi vedere. Uno è Robert Fraser, gallerista, manager e impresario, colui il quale presentò Yoko Ono a John Lennon, l'altro invece Mick Jagger, cioè il leader dei Rolling Stones, che vennero arrestati con l'accusa di uso di sostanze stupefacenti. Infatti quel lavoro lì Richard Hamilton lo chiamò Swinging London, giocando un po' proprio sul suono, sull'errore diciamo di scrittura di questa parola, non più la Swinging London dell'inizio degli anni 60, ma quella invece di una Londra un po' più corrotta, un po' più così marcetta per certi versi. Certo è che non bisogna dimenticarsi questo fatto, il 1967 è come nascita della pop art in Europa. Però mi sembra evidente che quando noi, se noi dovessimo fare un test a qualsiasi studente, non risponderebbe male dicendo che la pop art è in New York negli anni 60 e soprattutto la pop art è Andy Warhol. Beh, perché Andy Warhol è di fatto l'artista, lo dico sempre, lo dico ogni anno, non mi stufo mai di ripeterlo, che ha cambiato la storia dell'arte in maniera definitiva. Cioè esiste un calendario nella storia dell'arte, c'è un ante Warhol e un post Warhol. Beh, lui era nato a Pittsburgh, di famiglia migrati dell'est europeo, perse il padre molto giovane, la madre Giulia invece rimase molto al suo fianco, fin da quando nel 1951 Warhol decide di trasferirsi a New York a cercare fortuna, ma con l'idea non di diventare un artista nel mondo peraltro dominato dall'espressionismo astratto, ma diventare il più famoso artista del mondo. Quello, più ancora di Salvador Dalì, che la gente lo riconosce per strada e gli chiede un autografo, i selfie no, perché non era evidentemente ancora possibile. Andy Warhol per una buona parte degli anni 50 sbarca al Lunario disegnando, era molto bravo in questo tipo di tecnica. Che cosa disegna? Pubblicità per vestiti per scarpe, di cui era un vero e proprio fanatico, copertine di album musicali. pensate che ne realizzerà 50 in tutta la sua carriera, alcune vedrete famosissime. Addirittura mette a posto le vetrine dei grandi magazzini, Bonavit, Teller a New York, e poi comincia a rendersi conto di questo fatto, che è la figura dell'artista quella che deve cambiare, la figura che deve diventare qualcosa di dirompente. È piccolo, butterato per via di una brutacne giovanile, al naso grosso, perde i capelli, c'è tutte le possibilità davvero per non riuscire a bucare lo schermo, come si suol dire con la sua immagine. Non gliene frega niente, lui sulla sua immagine ci lavora, inventa questo look metrosexual, risponde a malapena alle domande, ma soprattutto realizza un corpo di opere talmente importante e talmente vasto e per certi versi anche contraddittorio, che davvero cambierà definitivamente il modo di avvicinarsi all'arte. Cambierà anche lo studio, la factory non è più quello studio, vi ricordate di Pollock, The Spring, dove lui da solo, al massimo in compagnia della moglie, lavorava mettendoci dentro tutta la sua animosità, la sua acrimonia, anche no. Warhol apre la factory, l'apre al pubblico, l'apre ai suoi amici, l'apre a personaggi star in Starlet che lo frequentano giorni e noti, lì dentro accade di tutto, si fa editoria con la rivista Interview, si fa ricerca musicale, Warhol nel 1967 decide che vuole il suo gruppo rock, il suo gruppo rock saranno i Velvet Underground, di cui lui diventerà produttore, nonché illustratore di quel famoso disco con la copertina a fondo bianco e la banana. si fa cinema sperimentale, Warhol ha realizzato alcuni film sostanzialmente invisibili come Empire o Sleep, finché durano sei, otto ore, il tempo della vita che coincide con il tempo della finzione, dove non ci sono tagli, non ci sono stacchi, ma soprattutto Warhol è noto per le sue icone che hanno davvero diviso in due, l'arte americana, direi l'arte mondiale, dal prima e il dopo, a cominciare dalle Campbell Soup, cioè lo stesso tipo di alimento che si trovava negli scaffali dei grandi magazzini in America, le Brillo Box, queste scatole quasi identiche alle confezioni nelle quali appunto venivano contenute le spugnette per lavare i piatti, oppure le icone del suo tempo, Marilyn, quel ritratto di Marilyn è la prima immagine che noi abbiamo della sfortunata attrice hollywoodiana, Elvis, e tutti i visi, i volti, più avanti le falce martello, più avanti Mao Zedong negli anni 70, eccetera. Warhol è un artista che più lo studi, più continueresti a studiare, negli anni 70 lui diventa il guru della pop art, quello attorno al quale il mondo dell'arte riparte per una figura completamente nuova, una figura sociale che guarda il cinema, intuisce il grande potenziale della televisione, subisce nel 1968 addirittura un attentato, un tentativo di omicidio da parte di un'artista militante femminista, tal Valerie Solanas, rischia di morire, ce la fa, sopravvive, sopravviverà ancora diversi anni, non molti perché ci lascerà a 59 anni. Dopo un banale intervento alla cistifeglia, il 22 febbraio 1987, Warhol ci lascia, ma non ci lascia certamente la sua straordinaria lezione di artista a 360 gradi, che ora io ho voluto ridurre davvero in pillole, ma che meriterebbe non una lezione monografica di questo corso, ma tutte le dieci lezioni del corso di storia dell'arte per i ragazzi che dovranno dare la maturità. In fondo dello straordinario successo della pop art a New York, anzi direi dell'identificazione totale di questo nuovo movimento con una città che ormai ha conquistato i galoni di capitale dell'arte mondiale e che con le sue gallerie, con i suoi musei, con la sua grandissima spinta economica, anche questo va detto, spinge davvero gli artisti dell'ultima tendenza a diventare leader nel mondo. C'è il famoso episodio della Biennale di Venezia del 1964 che venne a detta dei critici, soprattutto letteralmente colonizzata, con uno sbarco pacifico, ma una vera e propria invasione degli artisti pop in Europa e dunque anche in Italia. Dicevo, Warhol è la luce, è il guru, è il capofila di un'esperienza che però vede in realtà tantissimi protagonisti attivi, a cominciare da quel Roy Lichtenstein, che come Warhol, ma per certi versi anche di più di Warhol, utilizza immagini preesistenti nella propria riflessione del tempo. E queste immagini da dove vengono? Beh, essenzialmente dal mondo veramente dei media più popolari, ovvero i fumetti, i fumetti neanche quelli d'autore, cioè fumetti che sono di genere, quindi di guerra, d'amore, delle storie tipo romanzo d'appendice. Roy Lichtenstein riproduce in pittura, ingrandendola a grandi dimensioni, un'immagine che trova in un fumetto che gli piace, che lo colpisce, utilizzando la stessa tecnica del retino tipografico, quella dei puntini, ce l'avete presente, se vedete i vecchi fumetti degli anni Sessanta, è proprio uno stile inconfondibile, con suoni, rumori, voci, ovviamente estrapolate dal contesto della narratività, queste immagini non hanno più un significato, ma puntano invece al loro fortissimo potere iconografico. Roy Lichtenstein è stato un altro di quegli artisti che ha attraversato proprio la storia del mondo pop americano con una continuità di stili e di linguaggi, andando spesso a fare una cosa che poi esploderà un po' più avanti, ma che già nella pop è in nucio, ovvero mescolare l'alto e il basso. Non ci sono più quelle odiose gerarchie per le quali una cosa doveva essere più importante di un'altra, un linguaggio accademico più paludato rispetto magari all'accattivante stile della grafica o dei fumetti, ebbene le cose sono a questo punto orizzontali, si svolgono tutte quante sullo stesso punto. E che dire invece di Klaisse Oldenburg, è un artista ancora vivo e ancora in attività, che invece della pittura si sofferma soprattutto su grandi sculture monumentali. Chi conosce Milano, vive a Milano, certamente si sarà imbattuto nel lago e il filo, in Piazza Cadorna, di fronte alla stazione Nord, peraltro nella riproposizione architettonica di Gaia Olenti. Ebbene, Oldenburg negli anni Sessanta per esempio realizza queste grandi soft sculpture, cioè sculture morbide, che rappresentano molto spesso il cibo dell'America di quegli anni, il junk food, come lo chiamano i suoi detrattori, gli hamburger di McDonald's, oppure gelati, fette di torta che sono estremamente colorate, che colpiscono l'immaginario, e anche un pochino così la golosità di noi curiosi verso un cibo certamente plasticoso, che non ha nulla a che fare con la cultura italiana della cucina, ma che segnano davvero questa nuova visione dell'America così big, così grande, così estremamente sovradimensionata. Oppure si può citare certamente il caso di Tom Wesselman, un altro artista pop, lui scomparso, invece alcuni anni fa, che introduce per esempio in maniera ancora più radicale l'elemento del kitsch, disegnando, dipingendo questi grandi nudi americani, quindi figure femminili spesso con il sesso in vista, dove però utilizza dei materiali appunto appartenenti al cattivo gusto della quotidianità, tessuti, alcuni addirittura leopardati, pezzi di stoffa, eccetera, eccetera. James Rosenquist, che è forse l'ultimo grande, è stato uno degli ultimi grandi interpreti della pittura della pop, ancora mescola l'elemento della cultura quotidiana o della cultura dei mass media, con invece riferimenti, per certi versi, alla pittura classica. Di cerniera, tra le esperienze, quindi la generazione precedente, quella dell'espressionismo astratto, e quella della pop art, che comunque a un certo punto si sovrappongono, abbiamo certamente i lavori di Jasper Jones, soprattutto le bandiere, flags, che sono ancora però realizzate a mano, mentre la pop art, soprattutto in world, punta alla ripetizione, quindi alla serigrafia, e quindi ad un'immagine che viene ripetuta un numero X di volte, proprio perché per affrontare i media deve necessariamente poter concorrere proprio sul grado di penetratività all'interno proprio della cultura mediatica nuova degli anni Sessanta. Ho citato Jasper Jones, ma certamente non posso non ricordare anche Robert Rauschenberg, che fa un po' da così cerniera, tra il prima e il dopo, tra l'altro lui essendosi anche formato, alla scuola diretta da John Cage, il Black Mountain College, dove quindi sperimenta tutta una serie di tecniche e di linguaggi che vanno dalla performance, alla pittura, alla danza, la musica, eccetera, eccetera, che resterà davvero un altro di quei personaggi centrali nel passaggio all'era contemporanea. Si potrebbe parlare anche qui per giornate intere della pop art americana e c'è da dire anche che a livello di mostra nel mondo qualsiasi esperienza che viene fatta, qualsiasi studio che viene proposto intorno alla pop art, raggiunge sempre un pubblico molto vasto, perché? Perché è un'arte frontale, un'arte che è capace a parlare al pubblico senza girarci troppo intorno, per cui non si prevede neanche un grado di preparazione particolare, ma che non è affatto banale, perché appunto mette al centro la questione dell'immagine nell'era della comunicazione. Abbiamo visto Londra, abbiamo visto New York, ma la pop art, come vi dicevo, è un linguaggio planetario che parla diversi idiomi, come per esempio il francese. A Parigi, nel 1960, grazie a un curatore critico che si chiamava Pierre Restany, assistiamo alla nascita di un movimento che della pop prende qualche cosa, prende soprattutto l'aspetto critico, si chiama nouveau realism, ovvero tutta questa ossessione per le merci, per il denaro, per il profitto, per la comunicazione, per il cibo, crea però certamente un altro tipo di aspetto, il rifiuto, lo scarto, qualche cosa che la civiltà industriale comincia già a produrre e di cui prima o poi dovrà rendere conto. Che cosa ce ne faremo di tutta questa roba? Ora, noi sappiamo che se un oggetto che ha terminato il proprio corso vitale viene utilizzato all'interno di un'opera d'arte, acquisisce un diverso valore temporale, molto più forte, molto più intenso, ovvero potrebbe addirittura durare per l'eternità. Beh, Armand, per esempio, artista di Nizza, riempie la vetrina della galleria Iris Claire di Parigi di immondizia, Le Plaine, l'intitore è il pieno, in contrapposizione al lavoro che il suo amico, Yves Klein, aveva realizzato l'anno prima, il 57, ovvero il vuoto. In galleria non c'è più niente, questo forse è uno dei fondamenti dell'arte concettuale, nel caso di Armand c'è quest'idea dello scarto che passa attraverso anche le compressioni, alle esplosioni di oggetti che quasi sempre appartengono al mondo dell'industria come le automobili. Discorso simile si può fare anche a César, anche lui di Nizza, anche lui legato, diciamo quindi, al sud della Francia, che vede nelle compressioni, quindi nel prendere delle carcasse di automobili incidentate, distrutte, sulla carcasse di automobili aveva già lavorato Andy Warhol con i car crash, o John Chamberlain, altro grande scultore della pop art americana, ebbene lui comprime o fa comprimere queste lamiere che diventano così oggetto scultore. Ma si deve parlare anche certamente di Jean Tengely, che insieme alla moglie Niki de Saint-Folle hanno realizzato alcune divertentissime sculture, Jean utilizzando ferri vecchi, facendoli funzionare come degli strani ingranaggi, un po' fluxus in questo senso, un po' così, anche strampalati, mentre Niki ha un aspetto decisamente più favolistico, c'è una sua bellissima opera pubblica vicino a Capalvio in Toscana. E non si può non citare evidentemente anche il caso di Christot, che è un artista che viene dalla Bulgaria a Parigi, comincia a lavorare impacchettando degli oggetti, degli oggetti quotidiani, una sedia, un mobile, qualcosa, una carriola, qualcosa che appartiene appunto alla vita quotidiana, negandola, quindi avvolgendola in un grande cellofan, in un grande telo di nylon, cancellare significa sottolineare, non soltanto negare, e poi il suo lavoro, soprattutto quando conoscerà la moglie, Jean-Claude, con cui vivranno anche lì un pezzo di arte di vita insieme per tanto tempo, andare a impacchettare i grandi monumenti in giro per l'Europa e per il mondo, dal Reistag a Berlino al Pont Neuf a Parigi fino al grande lavoro Flotting Pears alcuni anni fa qui in Italia sul lago di Iseo. c'è una curiosa figura che unisce il mondo francese con quello italiano che si chiamava Mimmo Rotella, unico italiano a firmare il manifesto dei nouveau realist che ha lavorato per un certo tratto anche lui a Parigi, ma che deve la sua fortuna soprattutto ad una scoperta un po' casuale, lui ebbe a raccontare tante volte, veniva dalla Calabria, veniva da Catanzaro, stava a Roma, nella Roma degli anni 50 in cui la grande industria nascente è quella del cinema, pensate ai set, gli studi di Cinecittà, pensate a Federico Fellini alla sua dolce vita, pensate a Rossellini, a Visconti, insomma, a tutto il grande cinema italiano, non solo d'autore ma anche quello di genere, Con il Teplum, la commedia, eccetera, eccetera, bene, Mimmo Rotella vedendo una sera, una notte, anzi, per prima di tornare a casa, dei manifesti dei vecchi film, dei film in programmazione però magari strappati da qualcuno, semplicemente consumati in trisi d'acqua per la pioggia, decise di prendersene uno, di portarselo a casa e cominciò a lavorarci sopra, strappando, togliendo, provando a fare un tipo di pittura senza dipingere che lui chiama decollage, ecco, Rotella, come Warhol, per certi versi anche più di Warhol ma come Liechtenstein, lavora su immagini preesistenti, le immagini dei mass media della comunicazione, in una città, Roma, che davvero è la culla della pop-art in Italia, che rivela una generazione di artisti molto molto interessante e anche completamente diversa, nonostante il tentativo di guardare verso l'America di un grandissimo pittore e anche grandissimo personaggio, quale fu Mario Schifano, che all'inizio degli anni 60 mette in mano ai suoi monocromi che quindi si riferiscono a un certo tipo di pittura che ha delle altre ascendenze, ce le ha in Fontana, in Manzoni oppure nel gruppo Zero tedesco o anche semplicemente nella pittura monocroma che abbiamo visto in America con Barnett Newman, con Mark Rothko, ma i suoi monocromi sono a smalto, sono splendenti, sono relucenti e hanno delle forme arrotondate ai lati perché Schifano già pensa che di lì a poco sarebbe stata l'era della televisione, quello schermo da cui lui comincerà poi a immagazzinare immagini che negli anni 70 farà esplodere in questi suoi paesaggi tv dove scatterà continuamente fotografie a tutto ciò che passa in televisione, ci interverrà sopra con la sua pittura e la renderà estremamente vitale. Gli anni 60 per Schifano sono stati un decennio fantastico, straordinario e passato ad una serie di cicli pittorici che sono diventati diciamo forse tra i capolavori della storia dell'arte italiana del novecento cominciare da tutte stelle continuando con compagni e compagni le palme i paesaggi anemici e appunto alla fine il futurismo rivisitato passando appunto per arrivando fino ai paesaggi tv in un periodo di tempo in cui Schifano anche tenta la strada del cinema vicino all'ispirazione waroleana con alcuni film sperimentali tra cui umano e non umano che è considerato un po' il capolavoro del cinema sperimentale italiano insieme a Mario Schifano ci sono altri personaggi che girano nella Roma di quegli anni in Piazza del Popolo il nome appunto Scuola di Piazza del Popolo hanno una certa pulsione autodistruttiva un certo così interesse per cose non esattamente legali ma sono degli artisti di straordinario talento di Mario Schifano vi ho detto insieme a lui Tano Festa e Franco Angeli entrambi morti piuttosto giovani si direbbe quasi morti di vita Franco Angeli lavora per esempio sui simboli così contraddittori della società americana come il dollaro che certamente viene percepito da noi in maniera diversa anche critica non vi dimenticate che quelli sono gli anni in cui l'America scende in guerra ed è in guerra prima in Corea poi in Vietnam e quindi si parlava di imperialismo americano di invasione c'era la guerra fredda c'era il mito dello spazio la lotta diciamo per la conquista dello spazio che si giocava con l'Unione Sovietica oppure Tano Festa che invece lavora sì sulle icone ma sulle icone classiche dell'italianità Michelangelo Donatello che trasforma le cui opere frammenti di opera trasforma in immaginario pop zuccheroso assolutamente artificiale ma di fortissimo impatto ecco parlare di arte italiana rispetto alla pop non si esaurisce a Roma c'è una pop art a Milano molto più concettuale molto più leggera come nel caso di Emilio Tadini di Lucio Dalpezzo scomparso alcune settimane fa o a Torino se vogliamo andare nella direzione di alcuni artisti come Ugo Nespolo come Piero Gilardi quando esce dall'esperienza dell'arte povero insomma Aldo Mondino ci sono pop artisti a Firenze ce ne sono insomma in diverse città d'Italia ma con una grande novità finalmente l'arte si relaziona come un tutt'uno mondiale come un tutt'uno mondiale parla una lingua che sarà la lingua del contemporaneo che sarà la lingua che sarà la lingua di Lucio Dalpezzo